Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'ultima parte della mia guida italiana di Pokémon Russo Fuoco In questa parte andremo a catturare il leggendario Pokémon Mewtwo Che si trova nella Grotta Celeste, di fianco a Celestopoli Proprio una cosa che vi consiglio assolutamente E deve avere una buona scorta di repellenti Eh sì, perché sarà un po' complicata questa zona Quindi, inoltre dovremo anche avere la mossa Spaccaroccia insegnata a uno dei nostri Pokémon Cosa che facciamo un attimo adesso finché mi ricordo Porta MT Spaccaroccia Se qualcuno mi dovesse chiedere dove si trova Spaccaroccia Spaccaroccia si trova andando al Monte Brace dove si cattura Moltres Prima di questo si trova una piccola zona che sarebbero le terme laviche Dove un uomo anziano ve lo consegnerà Dicendo che lui ha costruito queste terme utilizzando questa mossa Ok, quello che dovremmo fare ora è scendere qui in basso Andare qua Non prendete la scaletta che avete visto prima perché vi porterebbe soltanto dalla strada sbagliata Adesso riutilizziamo il repellente Ok Prendiamo la bicicletta che facciamo prima Non prendete quella scaletta lì ma scendete di nuovo in basso Prendete quest'altra scaletta Dopodiché questa zona è un po' più complicata In quanto dovrete passare da questa parte di qua Arrivare Finito l'effetto del repellente Comunque se guardate il video è molto semplice catturarlo Ok Scendiamo dalla scaletta Da quest'altra scaletta I pokemon non sono oltre il livello 60 Quindi sono veramente molto forti Come questo ditto Che non è al 60 Peccato Comunque lo catturo lo stesso Anzi no, non ci sono riuscito perché l'ho ammazzato Yeah Vabbè Parte il fatto Oh, c'è di nuovo Proviamo a catturare ditto Perché ditto mi piace Infatti ho catturato ditto Yeah Siamo tutti felici e contenti Ok, intanto comincio un attimo a salvare qua Perché la strada potrebbe diventare ancora più complicata Intanto il repellente ha finito Ah, disgraziato Vabbè Utilizziamo ancora una volta repellente Dirigiamoci in questa zona da poter utilizzare surf Ed eccolo qua Mewtwo Il pokemon leggendario E adesso quel che faremo sarà proprio quello di catturarlo Finendo così la nostra guida Mewtwo è a livello 70 Ed è un pokemon di tipo psico Quindi molto utile contro il pokemon di tipo veleno Ok, adesso andiamo nello zaino Prendiamo la nostra Master Ball Perché molto facilmente non si catturerà E potrebbe sconfiggere i nostri pokemon Rendendo inutile tutta la parte Quindi Teos con la Master Ball Dopo tre tocchi Riesco a catturare Mewtwo Bene ragazzi Un'altra parte della mia guida in italiano Anzi no, chiedo scusa La mia guida in italiano di pokemon rosso fuoco è finita Spero che vi sia piaciuta Votate, commentate, iscrivetevi Attendete nuove parti Vi ricordo sempre che dal 5 maggio Incomincerà la mia guida di pokemon Ergol SoulSilver in italiano Intanto continuerò Pokemon Cristallo Invece pokemon Perla L'ho rinviata dopo SoulSilver Adoche pokemon Perla ormai è conosciuto Quindi sarebbe un po' più noiosa per gli altri D'accordo? Ciao ragazzi Arrivederci al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi